Onorevole Lussana, giovedì in Consiglio dei Ministri il Governo presenterà la riforma della giustizia. La Lega Nord che cosa ne pensa? Beh, per bocca del nostro segretario federale Umberto Bossi, noi diciamo sì a questa riforma costituzionale della giustizia. Il nostro è un sì convinto perché riteniamo che occorrano delle riforme strutturali per migliorare il servizio giustizia ai cittadini. L'opposizione dice che il Governo però propone leggi soltanto a favore di Berlusconi. Lei come risponde? Beh, questo è il solito ritornello delle opposizioni che non hanno altri argomenti e in questo caso è una grande autentica falsità. Noi parliamo di una riforma costituzionale all'interno della quale ad esempio ci sarà scritta finalmente la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. Questo va nell'interesse dei cittadini e cioè quello di avere la parità fra accusa e difesa e un giudice che sia terzo e imparziale. Le vicende di Berlusconi non c'entrano nulla anche perché trattandosi di una riforma costituzionale occorreranno sicuramente un iter lungo per approvarla. Arriveremo a termine della legislatura e poi, visto che non penso che verrà approvata con il consenso dell'opposizione, quindi con la maggioranza dei due terzi, sarà sottoposta anche alla consultazione referendaria, quindi al referendum confermativo e quindi al giudizio dei cittadini. Perciò autentiche falsità. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS